Quali sono gli effetti collaterali di amlodipina besilato? Amlodipina besilato è un farmaco di prescrizione comunemente usato nel trattamento dell'ipertensione e del dolore al petto. Mentre la maggior parte degli studi ha rilevato che l'amlodipina besilato è altamente efficace, possono presentarsi alcuni effetti collaterali gravi. Uno degli effetti collaterali più comuni dell'amlodipina besilato è un aumento del gonfiore, specialmente nei piedi e in altre estremità. Ulteriori effetti collaterali includono aumento dell'affaticamento, vertigini e mal di testa da lieve a grave. Effetti collaterali più gravi includono cambiamenti nella vista, svenimenti e battito cardiaco accelerato. Coloro che provano questi sintomi sono in genere incoraggiati a cercare assistenza medica il prima possibile. Uno degli effetti collaterali più comuni di amlodipina besilato è un aumento del gonfiore del piede e della caviglia. Il gonfiore del piede e della caviglia non solo può essere molto doloroso, ma può anche portare allo sviluppo di condizioni più gravi. Coloro che hanno un gonfiore significativo dopo l'amlodipina besilate potrebbero consultare il proprio medico il prima possibile. Un altro degli effetti collaterali comuni di amlodipina besilato è la stanchezza. Tipicamente, coloro che soffrono di stanchezza o affaticamento dopo l'uso di amlodipina besilato vedono una diminuzione della gravità dei sintomi dopo alcune settimane di utilizzo. Quando si assume il farmaco per la prima volta, è importante che i pazienti evitino determinati compiti che richiedono tempo, poiché possono rivelarsi troppo difficili da eseguire. È stato anche riscontrato che il capogiro ha un effetto collaterale comune dell'amlodipina besilato. Come coloro che soffrono di affaticamento dovuto all'uso di amlodipina besilato, i sintomi di vertigini diminuiscono tipicamente di gravità dopo un uso prolungato. Inoltre, coloro che sperimentano i sintomi più gravi sono generalmente incoraggiati ad evitare di guidare o svolgere altri compiti simili durante le prime fasi dell'uso di amlodipina besilato. In alcuni casi, l'uso di amlodipina besilato è risultato essere correlato allo sviluppo di cefalea da lieve a grave. I pazienti che sono stati prescritti amlodipina besilato e hanno avuto esperienze di mal di testa da lieve a grave in genere possono ottenere sollievo attraverso l'uso di farmaci antidolorifici da banco. Alcuni degli effetti collaterali più gravi dell'amlodipina besilato comprendono cambiamenti della vista, una maggiore propensione allo svenimento e lo sviluppo di una frequenza cardiaca rapida che non si dissolve durante il riposo. In alcuni casi, questi effetti collaterali possono essere pericolosi per la vita. Coloro che vivono queste condizioni dovrebbero consultare un medico il più presto possibile. Spesso, se questi effetti collaterali persistono per un lungo periodo di tempo, ai pazienti viene prescritto un altro tipo di farmaco simile.